Dopo le segnalazioni arrivate alla nostra redazione, nella giornata di ieri abbiamo sentito le opinioni dei residenti riguardo al sottopasso di Via Fanella, rimasto chiuso alla viabilità per due anni dopo la sua costruzione, nonostante fosse pronto per essere utilizzato. Oggi l'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli ha replicato i residenti, facendo luce sulla questione. A Centinarola, in Via Fanella, sta succedendo questo. Sono appena finiti i lavori di sistemazione del sottopasso. Abbiamo scelto di fare questa sperimentazione che durerà circa sei mesi, intorno a marzo del prossimo anno. Una scelta che incentiva l'utilizzo degli spostamenti ciclabili o comunque a piedi, perché vorremmo lasciare via Fanella, quel tratto di via Fanella, un passaggio pedonale. Quindi questi New Jersey che vedete, quelle cose bianche e rosse dopo il ponte, le lasceremo. Quindi tutt'oggi è aperto quel sottopasso e possono passare pedoni ciclisti e motorini in questo momento. Mentre invece l'ingresso del quartiere carrabile lo manterremo su Via Brigata Messina, che è una via più grande, più di scorrimento carrabile. Quindi l'ingresso e l'uscita del quartiere carrabilmente parlando avverrà su Via Brigata Messina, mentre invece l'ingresso e l'uscita principale dei pedoni ciclisti vorremmo che fosse via Fanella. In questo momento è già fruibile. La segnaletica orizzontale è stata fatta nel tratto dei lavori. Noi sistemeremo la segnaletica verticale che avverrà adesso nei prossimi giorni e cercheremo anche di garantire questo collegamento con la ciclabile che si trova in Via Fanella, lato Fano, sul corsia dell'autobus. Come sapete lì ci possono passare sia gli autobus che le biciclette e i motorini. Quindi dovremo fare questo collegamento in modo che il quartiere si può collegare al centro molto più facilmente. Vorrei aggiungere questo. Nel quartiere presto inizierà il progetto quartiere a misura di bambino, quindi andremo sia nelle scuole, nella scuola, ma anche faremo degli incontri pubblici con i residenti di Centinarola. Grazie.